Sì, è una situazione positiva, le nostre squadre, i nostri atleti, i nostri dirigenti, le nostre federazioni, lo dico spesso, non mi stanco mai di ripeterlo, lavorano bene, con grande impegno, con grande dedizione, con grande abnegazione, i risultati ci sono, ma non sono soltanto risultati importanti a livello agonistico, ma risultati importanti perché crescono tanti settori giovanili, in modo trasversale, un po' in tutte le discipline sportive. Questo, da dirigente sportivo, da rappresentante del mondo sportivo piacentino, è proprio l'elemento che mi preme sottolineare, cioè la crescita del movimento giovanile. C'è una grande necessità di fare promozione sportiva, di portare sempre più giovani allo sport e credo che avere dei grandi campioni, dei grandi allenatori, dei dirigenti sportivi encomiabili siano gli esempi migliori, proprio anche in questo caso per fare promozione. Il loro esempio è un esempio positivo per cercare di avvicinare sempre più giovani allo sport.